Bella a tutti tardanno ragazzi e mo so cazzi ben ritrovati sulla nostra Road to Rank 1 su Dead by Daylight con il killer ovviamente perchè col sopravvissuto manco se me pagate a fascio porcazzo mi nonno lo portava lì a ombrello e passa il treno non è passato uno per due ore ma adesso doveva passare e bravo il treno bravo il treno allora ragazzi ho riuscito a potenziare naturalmente con i punti sangue fatti col sopravvissuto e svariate altre cose fatte come vedete non l'ho toccato il killer il perk che c'avevo l'altra volta quello un po' de merda così in poche parole quando attacca adesso la strega è un pochino più veloce a riprendere sia quando colpisce che quando liscia soprattutto quando liscia daie sepolcro di azzaro guardali guardali dove vai? oddio fugge fugge via guardala oddio convinta che salvasse la pellaccia guardala tu non hai ben capito con chi hai a che fare e vabbè rgancio a otto chilometri praticamente guarda che roba ci sono arrivato? meno male vai uno due e tre oddio cosa fai? oddio ma c'è cagato la torcia guardala pazzoide t'ho preso uguale perchè stavi proprio lì in bella vista ah perfetto eh hanno fatto un gem chi è costui? eh quella si è lasciata mori e ha detto no no basta voglio decideraro eh qui qui c'è qualcuno che non si fa i cazzi sua ve? e ve? e ve? e ve che qui c'è qualcuno che non si fa i cazzi sua eh? è vero o no? che fa? cosa cazzo fai? vi sconti? io lo dico non me fate incazzare che se me incazzò e però porco dio guarda se me la fa mettere sta trappola vaffanculo guarda mi è passata la voglia ce la voglio più mettere cazzo la dimettendo dice lui fanculo ce l'ho mai rotto il cazzo sto personaggio ormai ha già piccato i tutti mortacido guarda che culo eh ciao vabbè si guarda quanto core oh guarda quanto core questa guarda quanto core questa ma dimmi se è normale tu mi devi dire se è normale che una core così mortacci tua ha rotto il cazzo e qua va vediamo se c'hanno i coglioni di venite a salvare vediamo se ce l'hanno tanto quelli sono scappate eh eeeh capirai caga sotto infiniti vittoria brutale brutale ho fatto il punto porco dio se no ho fatto guarda che omini de merda di pronto di pronto eeeh la peppa mai successo ah che roba loro sono molto fortunati perchè io purtroppo non ho tutti i perk che c'hanno loro se a me mi fa dei roti del culo e più o mai col meyers le cose cambiano seriamente oddio come cosa cosa cazzo così dal nulla da ma guarda ma non c'è sta guarda che gioco de merda che è questo por cazzo che mi estordisci ancora eh vaffanculo mai rotto il cazzo mai rotto fammi riammazzata eh fammi riavvicinare che mo quelli la fanno scattassi l'uomo eeeh salve disturbo rompo i coglioni a qualcuno in tre madonna de dio in tre guardali bravo bello zio bravo eeeh te pensavi che non te vedevo eh dietro al barilozzo guardalo e basta di opporre resistenza mongaccino che fa si è impanicata mannaggia si è impanicata rega si è nascosta un'arma ma la so tagliata ma la so tagliata ma l'ha fatta veramente tagliata porco due ma tu pensa perché voi regà non lo vedete ma quando tu fai il sovravvissuto fai dei sarti che ti dico fermate eccola 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 hai rotto il cazzo hai rotto eeeh venduti proprio che fanno cosa fanno oddio cosa fai madonna ma do pure capocciata al cazzo come cazzo te chiami manchè le parole mi vengono ooooh t'avevo pure visto è bello volevo fare vago vabbè riduce gli attacchi la durata degli attacchi sferrati vai 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 all'uscita vai all'uscita che ci arrivi dai 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 che sei quasi arrivata corri 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 non sei arrivata amo fatto sto punto amo fatto amo fatto a posto e questo primo punto lo mettiamo in cantiere che vedete se facciamo un piccolo cambio e prendiamo michelino altro che qua cogliona tasto questo è veramente il peggio il fatto che tu non lo senti arrivare è di una gravità tale che voi non potete capire vai sto pronto a far benarica sopra e mo con michelino con michelino sono fame con michelino sono molto infame perchè non mi sentono sneaker 1 3 4 5 che stai a fa qui che stavi a fa t'ho visto guarda che t'ho visto che stai a far generatore brutta schifosa come te permetti con quale diritto con quale autorità liberalo liberalo non me ne frega un cazzo sono libero liberalo che cosa fate cosa fate cosa cazzo fate oddio guarda che gli hanno fatta questa che cecio cecio t'hanno fatta il cecione proprio mori cedelli chi te se in cula va schiatta mayers ce fa troppo paura pazzoide pazzoide rara oddio c'è un altro cancetto qui quella è morta se la siamo levata dai coglioni fuori una fuori una aaa vedi vedi come cambia la solfa con michelino lo vedi lo vedi questo lo spacchiamo subito proprio diretto percepisco dei movimenti poco graditi guardala guardala scavalca aspetta aspetta non gli fanno il cecione non gli fanno il cecione guarda quella è andata al piano di sopra è convinta che non la vedo guardala mannaggia a te mannaggia mannaggia a te te saluto scuffia guardi i canci lo stanno 8 km quando ci arrivo l'anno del cazzo dai ma vaffanculo ma chi cazzo ce l'ha messo sti canci a sta posizione del merda eh no mi dispiace ma ho capito il trucchetto ma hai rotto il cazzone ma hai rotto eh basta va vabbè basta ma hai rotto guarda curate curate anche perché così so più veloce sei l'ossessione quindi devi curate curate tanto c'ho a che fa ho 4 deficienti in questa partita bastarda guardala infamella la schifosa guarda un po' che c'è qui un bel gancetto pronto per te oh ah sta città oddio oddio santo ma ti pare che sarvi una e vai a far generatore che sta a un metro cioè ma tu non sei normale vabbè è imprendibile ferita va più veloce di me capisco che non sto al terzo livello dall'abilità però insomma un po' di realismo vabbè questa è una demente proprio questa è proprio una demente ma hai rotto i coglioni madonna proprio un bo kajam è serdito spero che l'hai visto ma hai rotto i coglioni libera però perché se no te vai alla botola te conosco troppo bene avrà capito che la sto a trollare questa ma oddio manco dai guarda chi cazzo sta giocando e basta ha rotto i coglioni mori di sanguata ma hai rotto il cazzo lasciamo per terra mori morice proprio grandiosi grandiosi eh vabbè è andata così mi dispiace ecco te qua perfettone è morto a posto questa partita è stata veramente una mattanza comunque ragazzi ci mancano solo due punti e io spero di farli adesso michelino maier arriva proprio lì mentre tu stai ancora tutto tranquillo trucca 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 lui arriva lì dietro ti prende e ti fa che cazzo stai facendo deficiente ti apprendi questo è il tuo posto guardalo quello lì sopra guardalo come lagga eeeh dove vai comunque sei nacecata c'hai per cosa ma due metri no ma dai è l'ossessione ma se l'attacco diventa lento brutto e le pare dai coglioni vaffanculo rotta il cazzo mi mette davanti tremente porco diaz imparate a gioca salve no vabbè ma più con questa che è ferita sti cazzo fotte sega proprio è stato fortunatissimo proprio ti ha detto di un bene a capitare con questi compagni di squadra fenomenali caro bubbi eeeh adesso che fai dove te ne vai ma che cazzo fa guardala ma tu sei proprio un hub ozì ah che al frezzo ah che al frezzo guarda se mi devo potenziare basta che me lo dici volevi fare i punti finiranno i bancali finiranno le cose che mi puoi tirare addosso finiranno le strade dopo prima o poi finiranno le tue chance di salvarti dovranno terminare prima o poi ecco qua questo è perché me le sei messo davanti costantemente brutto demente cosa no sei un pazzo zio sei un pazzo ti devo uccidere a te vaffanculo questo è il tuo posto te sento che stai qui dentro te sento te sento pezzo de merda guarda lì no no mi prega un cazzo te pio a te ok a te te pio gancio de merda 8 km sempre così oh a grande a grande orco dena non c'è gre guarda che demente guarda questa che demente o cielo qualcuno mi aiuti mi spiace mi spiace sono stato fin troppo buono con voi ragazzi fuggi 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 molto bene ragazzi ci manca l'ultimo puntarello e siamo al rank 15 e riprendiamo la streghetta che ci abbiamo 16.000 punticini da buttarci sopra siete tutti pronti e poi io depenno e partimo se no tocca fan firma per giocare sempre la stessa fottuta mappa un culo c'ho oggi proprio una la mettiamo qui dove non c'entra un cazzo te scrocio zi guarda proprio su la testa così gli sono atterrato sopra tipo super mario che fa? sale ma è folle pensa che infarto che gli è venuto a questa porco due madonna che infarto che te può essere venuto non oso immaginarlo l'unica trappola che ho messo pure a cazzo de cane ok t'ho preso t'ho preso che fa? cerca bancali la vedo è ansiosa di trovare bancali e invece trova la morte cosa? non l'avevo già colpita regga scusatemi nooo nooo madonna guarda 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 sto demente te prego guardalo ma questo lo appicchiamo qua con la sua torcetta di merda lo mettiamo proprio qui nel bel mezzo del campetto l'hanno liberata dai regà sto punto proprio facile easy easy tiè guarda questa il genio ferita se ne metta qua a salvacquellare guardala che cosa cazzo fa? madonna madonna de dio vieni qui allora doppiamo questa guarda i punti che mi stanno a fa fa questi proprio hanno deciso danno uccidici tutti facci soffrire come solo tu sai fare tanto c'è tu speri da nà c'è sei n'abba dov'hai boom boom bitch boom bitch minnaggia guarda quello ho qua torcetta ancora va in giro ancora succederà prima o poi che farete la cappellata di andare su queste trappole e allora ora io riderò non fa questo sicuro infatti a colli presa e preso pure te che t'ho visto due ore prima sbaglio o questo è un fuori due eh lo so che vi state scacazzando i pantaloni ragazzi mo si mettiamo in mezzo come farlocchi e aspettiamo dai 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 eh dura un cazzo però però è utile perché li spaventa a morte guarda come corrono cosa? oddio cosa è successo? non mi è chiaro cioè cosa è ah ecco nel bel mezzo dell'erba guardala con la sua infamità come corre la stregascia malefica si 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 tu te i bancari non mi fai punti si si tanto sei forte tanto sei forte non ti vede nessuno che torni indietro sei forte si si salve 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 salvino ma si ha infarti che stanno a piar questa cioè per me c'ha dieci anni di vita dopo almeno dopo sta partita la donna l'ha zaccagnata sulla schiena con l'infamità proprio lo cusì ce l'ho dietro ce l'ho dietro pensavi che non t'avevo sentito eh brava brava il genio il genio scontata come nessuno parco due brava brava sette più guarda che culo che c'hai c'è anche un gancetto qui vicino proprio pronto per la tua persona una trappolina la mettiamo qui questo ho già trovato a botola sicuro perché è scappato caghini è scappato caghini comunque se non ho fatto qui al punto c'è qualcosa che non va perché ebbè e siamo arrivati al rank 15 ragazzi diamogli un gg diamogli un gg gg insomma gg diciamo diciamo gg questo giusto sculato che ha trovato a botola ha fatto settemila punti ha fatto meno dell'ultimo porco due e niente se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento e un mi piace magari tutte e due non vi fa mai male noi ci ribecchiamo come sempre al prossimo massacro passo successivo passo dal corsivo ad ammassare casse di esplosivo sotto il prossimo obiettivo quattro mosse avanti faccio scacco matto a re masse di pedoni contro cavalli torri e lacche tutto ciò che avviene conviene imparatelo bene se la gente crepa qualcosa qualcuno ottiene costagliamo danni apocalittica scala mercalli sulle mani calli sulle mani ad intervalli siamo il fragello di noi stessi viviamo presto